bella a tutti ragazzi oggi siamo qui per fare un nuovissimo video dove facciamo le news di calcio mercato ovvero del bari ragazzi allora allora allarme mercato pare che l'empole sia più interessata caprile rispetto alla frentina dato che hanno ceduto il loro potere vicario al toteno non ha bisogno di sostituto poi che dire la lazio tra i club interessati a chiedere c'è anche la lazio che pensa attaccando del bari come possibile vice immobile al momento non c'è una trattativa il club di lorito ha chiesto informazione e resta vigili sull'attaccante poi allarme mercato bari interessato sull'ex centrocampista liam anderson a castaglio san nicola da 8 9 agosto bari c'è triangolo tra bari salunitana e juventus allora allarme mercato raga c'è pure elia caprile nella lista della spesa di club lorito assoluto di tifato anche l'affermazione da adesso di lì che l'hanno messo del mio fonte poi non ha mercato il cesena piace del ricco è entrato al bari troppo il serve dopo il prestito al corone ma perché il cesena lo prende prende lo prenda serve che il club poliesi contribuisca fortemente all'ingaggia d'altissima b come fa la passata stagione per il clima troppo e l'allarme mercato che i tam si vede vabbè nasce la polonia gran talento nel mirino di tre club italiani valermo come pari sedessato fenomeno giornalista femminazione al sito che fu valuto probabilmente allora c'è un milione di euro fronte allora ragazzi ci sono dei rumori che dico che il post capri potrebbe puntare sul porto dell'italiano del 21 se bastiano dei planches magari l'allarme mercato allo florenzi classe 2002 del 2002 ragazzi che del cosenza sarebbe un nome sull'agenda del diritto pulito per la passata stagione di mercato e un nuovo wonder del bari ragazzi il bari è interessato su rakid conda il centrocampista del picciano nel 2002 buono allora l'allarme mercato ma ecco fu lorussio dato da napoli e ma vale la sveruna la mattia che vuole andare al bari il bari lo vuole gabriel moncini giocatore del benevento che ha la grida d'arrivo non è assistito guarda che il difensore col danica vuole andare al bari poi tenucci non va alla spalla rifiugla anche non ci rifiuto da spalla col adesso attraverso un altro bianco dal 2002 che è da fiorentina poi pure filippo faggi è svincolato e vuole andare al bari cioè il bari lo vuole lui e pure il milano lo vuole quindi poi c'è uno scambio tra il cerno e il bari che è dato su occhio sull'attaccante e smalchicchio il centro del campionato l'ordaggio in generale l'ordaggio se ci credo sono l'ultimo rapporto in questa rende più rangevole da meno uno scambio tra e smalt e marco borsizio il bari è stato attaccante rosso nero la lenza coloppo per migliorare l'attaccante attacco su di lui ci sono molte squadre di seriati proprio signore il bari è interessato a marco nastri per migliorare l'attaccante 90 anni proprietà del milano ma ora in prestito con senso magari poi raga i nostri regini fratelli della regina c'è il bari è interessato a il bari è in cerca di un trenzino sinistra e hanno portato gli occhi di pietro ben ruato Christian pure questo ragazzi il bari è interessato su Christian che ti accade e raga il video finisce qua bella lasciate like iscrivetevi e raga pure valotti vuole il bari mamma mia ciao ciao